Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito due ordinanze di custodia cattolare nei confronti rispettivamente di tre minori di due napoletani di 20 e 21 anni, tutti gravemente indiziati di rapina aggravata. Gli stessi sono indagati in ordine ad una rapina commessa in via Giovanni Pascoli a Casoria la notte tra il primo e due gennaio scorsi, quando alcuni individui a bordo di motocicli hanno avvicinato un uomo a bordo di uno scooter e dopo avergli tagliato la strada lo hanno bloccato e percosso minacciandolo con una pistola e impossessandosi del suo veicolo. Le indagini sono state avviate a partire da un analogo episodio avvenuto circa un'ora dopo incalata a Capodichino a Napoli ai danni di un rider e hanno permesso di raccogliere elementi anche in relazione a questa rapina. Gli odierni indagati in particolare avrebbero utilizzato lo scooter rapinato a Casoria per commettere la rapina successiva.